Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, tanto come state mi auguro bene, oggi un grande giorno perché la Juventus potrebbe chiudere questa sosta qua di campionato con altri tre punti importanti però occhio a non sottovalutare minimamente l'avversario il Cagliari che viene da un momento positivo parliamo della formazione dell'esclusione eccellente analizziamo insieme il tutto e poi ci tenevo a fare un chiarimento sul video di ieri che tanti hanno mal compreso in maniera pregiudizievole quindi con pregiudizio hanno pensato a questo un video contro Tizio contro Caio Sempronio vi faccio un attimo di chiarezza e vi spiego anche quali sono i punti che non mi sono piaciuti prima di iniziare però ci tenevo a invitarvi a commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per non perdervi il post gara di Juventus Cagliari che si giocherà stasera alle 18 ora partiamo subito a bomba con i chiarimenti che ci tenevo a fare ragazzi sono rimasto deluso dalla conferenza stampa ma la colpa non è di Allegri il funzionamento della conferenza stampa è che il giornalista deve avere un po' di occhio e orecchie e se sente qualcosa di interessante deve incalzare su alcuni aspetti della formazione tiriamo poche cose comprendiamo qual è la linea ma non abbiamo certezze ma c'è una roba che ha detto Allegri potrei pensare anche di cambiare modulo oh ragazzi la domanda successiva le domande successive sono state fatte sul risorgimento italiano del calcio non su quel modulo là cioè della serie che modulo vorresti fare che cosa stai cosa hai sperimentato in allenamento qual è l'alternativa al 3-5-2 il 4-3-3 4-4-2 cioè incalzate su quegli aspetti là no invece no tranquilli questi cavoli e io quando vedo questo questo atteggiamento perché fosse stata una partita con l'Inter io sono sicuro che l'attenzione dei giornalisti sarebbe stata elevatissima e avrebbero cercato di tirare fuori dei contenuti decenti ai pamille eccetera eccetera però caspita questo era un titolo cambio di modulo punto di domanda cazzo titolo per oggi fatto e nessuno invece è incalzato ci sono rimasto male per veramente la passività dei giornalisti non per le risposte qualcuno ha pensato a colpo è sempre un po' deluso d'Allegri non vede l'ora di criticarlo no ce l'avevo con i giornalisti che non hanno fatto le domande giuste per una partita che secondo me è molto importante perché se perdiamo punti con le piccole non è sinonimo di grande squadra significa che non siamo tutta sta squadra qua settata questa è una squadra che devi battere punto c'è poco da girare ciattore per quanto io voglio bene al Cagliari e gli auguro sempre di salvarsi in Seria da Sardo del Nuorese non del Cagliaritano del Nuorese però auguro sempre al Cagliari di rimanere in Seria e non perché abbia particolarmente a cuore il Cagliari come squadra perché a cuore la città che mi ha ospitato quando ero all'università e so che indotto crea la Seria a quella città in una terra che ha già tante difficoltà dal punto di vista economico dal punto di vista della visibilità dell'attenzione quindi la Seria è un palcoscenico che auguro sempre alla mia Sardegna e mi auguro che ci sia sempre una squadra lì in Seria a rappresentare un'intera regione questo è il senso detto ciò la critica non era quindi sui contenuti di Allegri contenuti di Allegri possono essere criticabili ma se non ci sono neanche le domande giuste io critico chi deve fare le domande poi le domande devono essere giuste poi possiamo entrare nella critica dei contenuti di Allegri ma se mancano i presupposti cioè le domande capite bene che parliamo del nulla e quello è il senso cioè ho sentito le stesse banalità qualcuno mi ha detto ah ma ha detto che gioca a Cambiasi per forza non c'è UEA non c'è De Sciglio siamo corti non c'è Alexandro siamo corti sono scelte obbligate là ci arriviamo anche per esclusione noi però dove non c'è un arrivo per logica mi aspetto che il giornalista vado ad incalzare a chiedere qualcosa poi Allegri ha tutto il diritto di fare la pretatica e la melina con la parlantina che vuole e finisce là però se mancano i presupposti capite bene che un po' il tutto stona e quindi è questo il senso non si è parlato di un eventuale esclusione ma se Vlovic non parte di titolare c'è qualche problema con lui quali sono le situazioni perché Vlovic a quanto pare non parte di titolare e quindi è la grande esclusione proprio quella cioè nessuno che ha avuto anche la soffietta della formazione ma che in chiesa poi l'ha detto lui che in chiesa è andato bene per 65 minuti poi sono entrati Vlovic e Milik perché in cui 35 minuti mi servivano altre qualità e hanno fatto bene sì ma a quel punto gli chiedi ma possono fare 35 minuti per una questione fisica o una scelta tattica cioè sono tanti gli spunti che si possono trarre in una conferenza stampa c'è stata poca qualità nei argomenti perché? perché era Juve Cagliari ragazzi ripeto fosse stato Juve Inter l'attenzione dei giornalisti sarebbe stata elevatissima mia opinione tutto qua è stata una critica all'operato dei giornalisti presenti in sala alcuni hanno fatto domande interessanti quelli che devono approfondire dopo le risposte di Allegri non sono stati in grado di cogliere alcune sfumature per cui ci sono rimasto male questo era il video denuncia di ieri non era una critica ad Allegri poi se il fatto che lui non faccia non dia contenuti non dia insomma informazioni su come gioca anche all'avversario ci può stare ci può stare tutto e commentiamo il fatto che Allegri magari ha scelto di fare pretattica però le domande devono essere giuste questo intendevo dire ora torniamo a noi parliamo della formazione formazione un po' particolare perché abbiamo delle scelte obbligate di conseguenza Scesni tra i pali purtroppo gli è dispiaciuto anche allo stesso Allegri il fatto di non poter schierare per in di fare ricambi purtroppo le partite sono troppo poche quindi Scesni giocherà titolare difesa la classica senza Danilo quindi Rugani Bremer e Gatti centrocampo a tre composto da Locatelli McKenni e Miletti vista l'assenza di Adrian Rabiot per squalifica a sinistra gioca Kostic a destra gioca Andrea Cambiaso coppia d'attacco tandem d'attacco Moise Ken e Federico Chiesa mi aspetto una gran partita da Ken ma mi aspetto questo timbrare il cartellino cioè far gol che è la cosa che gli manca per coronare queste belle prestazioni che ha fatto gli manca quello il gol che poverino poi li aveva fatti anche contro l'Ellas però ahimè per un centimetro per una manata adesso vogliamo il gol e poi sarebbe bello che all'ingresso di Dusan Dusan riuscisse anche lui a far gol insomma io ragazzi non voglio una vittoria striminzita e basta stavolta la voglio importante cacchio cioè perché questi giocatori individualmente credo che meritino in generale di poter far gol di poter essere tranquilli eccetera comunque questo dovrebbe essere la probabile formazione poi mi aspetto di cambi anche last minute perché Allegri è questo uomo qua quando obbligato a fare scelte non si fa opprimere dalla situazione è uno che cerca di cogliere quella situazione problematica la accoglie e cerca un'alternativa sempre per cui occhio che potrebbe assolutamente cambiare qualcosa mi auguro di vedere Ealing Junior giocare un pezzo di partita almeno se non gioca questa è una notizia mi aspetto se la partita si mette bene la sostituzione di Gatti perché già in diffida e rischia quindi la squalifica con l'Inter e quindi un Danny Usen che potrebbe avere qualche minuto queste due cose mi aspetto come cambi partita oltre ovviamente agli attaccanti Milik e Vlaovic vediamo come si mette perché il Cagliari ragazzi sta iniziando ad acquisire una certa tranquillità una certa filosofia e quindi è una squadra che non molla un secondo ce l'ha dimostrato anche qualche altra partita qua classica bucciona di banana che non dobbiamo sottovalutare questo vi dico chiudere questa parte qua di campionato con una vittoria sarebbe un miniciclo veramente buono di Max Allegri buono in vista anche dell'Inter l'Inter che è in casa il frosinone di Mati Sule se Mati poi ci fa un bel regalo insomma gli diamo tanti meriti e bacioni a distanza speriamo bene detto ciò io vi saluto vi mando un forte abbraccio iscrivetevi al canale sempre fino alla fine forza io ragazzi sempre